Questa domenica sera 21 febbraio i carabinieri della stazione di Capriolo hanno arrestato un 25enne albanese per detenzione di circa 20 grammi di cocaina destinata allo spaccio. Il ragazzo, già tenuto d'occhio dai carabinieri, è stato fermato durante un controllo, mentre si trovava alla guida dell'auto di un amico. Sperava così di passare inosservato, ma è stato trovato con dello stupefacente e in casa sua i militari hanno trovato altri strumenti di misurazione e circa 550 euro in contanti frutto dello spaccio. Per lui sono scattati i domiciliari, sempre nell'ambito degli arresti per droga. A Pontevico i carabinieri hanno arrestato un 42enne per spaccio di cocaina. Alla vista della pattuglia, infatti, l'uomo alla guida di una BMW ha invertito la marcia per evitare di imbattersi nel controllo e ha insospettito così i militari che lo hanno raggiunto e fermato. L'uomo alla guida era un volto noto dei carabinieri che quindi lo hanno perquisito e si sono recati a casa sua dal fianello dove hanno trovato 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 42enne è stato condannato ad otto mesi di carcere e al pagamento di una multa di 1000 euro. Inoltre, nuovi controlli sono stati effettuati dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda nel campo nomadi di Calcinato, considerato un luogo di spaccio e controllato da più di un anno durante il quale i militari hanno documentato lo spaccio da parte di sette uomini di circa 700 dosi di cocaina pari a mezzo chilo per un corrispettivo di 35.000 euro. Nel corso del controllo, che si è svolto con l'impiego di due unità cinofile, sono state segnalate quali assuntori di cocaina una cinquantina di persone. Altra droga è stata sequestrata insieme a del denaro in contanti. A Palazzolo, i carabinieri del radiomobile di Chiari hanno arrestato invece un algerino di otto anni per furto. Ad allertare i militari, un cittadino che ha chiamato il 112 segnalando un furto in atto nel proprio garage. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato il ladro, un 38enne algerino, che una volta portato in caserma, si è dimostrato poco collaborativo ed aggressivo nei confronti dei militari. È stato condannato ai domiciliari con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Mentre quattro uomini sono stati arrestati a Brescia nelle scorse ore dalla polizia di Stato per rapina, si tratta di un 41enne marocchino e di un 49enne, un 58enne e di un 47enne tutti bresciani, sono stati visti entrare da una pattuglia impegnata nei controlli all'interno di uno stabile di via Milano, per poi uscire poco dopo in sella a quattro biciclette di valore. In seguiti hanno gettato le bici a terra, tentando la fuga risalendo sulla loro auto e hanno provato persino ad investire due agenti che hanno riportato contusioni guaribili in 5 e 7 giorni. Grazie all'arrivo dei rinforzi, tutti e quattro i rapinatori sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso.